e salutiamo Luca Spennacchio ciao a tutti ciao ciao Luca come stai? io ti vedo l'iconcina del muto però ti sento ok ti sento sparito lui è sparito va benissimo volentieri è veramente un piacere averti qui stasera con noi altrettanto sono molto emozionata assolutamente addirittura sì perché comunque se posso fare giusto un piccolo preambolo poi giuro ti lascio parlare il libro è assolutamente splendido è facilmente comprensibile anche da diciamo i non addetti ai lavori quindi non è diciamo specifico solo per chiedere il settore ed è talmente tanto rappresentativo della realtà che spesso mi sono innervosita nel leggerlo a dire è vero è proprio così quindi veramente veramente complimenti grazie grazie mille quindi ringrazio tutti voi di essere qui e ringrazio i ragazzi di avermi invitato a questa a questa chiacchierata su su Canile 3.0 e sul progetto in realtà di Canile 3.0 progetto che naturalmente adesso è fermo come un po' tutto il resto progetto che innanzitutto vorrei partire con lo spiegare perché si chiama perché è il titolo perché è Canile 3.0 allora Canile 3.0 perché ho chiamato questo libro che naturalmente non sto svelando nulla di che parla di Canile perché a mio avviso noi ci troviamo nella terza fase in una terza fase di sviluppo o quantomeno quando ho scritto il libro ci troviamo nella terza fase di sviluppo del Canile allora innanzitutto il libro è uscito nel 2016 però io ci ho messo quasi cinque anni per scriverlo perché ci ho messo cinque anni per scriverlo perché non perché ci volessero cinque anni per scriverlo ma numero uno perché non faccio lo scrittore di professione di conseguenza l'organizzazione per la stesura di un libro abbastanza lungo è un qualcosa che uno deve apprendere facendolo però c'è un altro motivo per cui ho impiegato così tanto tempo a scrivere il libro io credo che noi siamo in un momento storico molto complesso per il Canile e ho sempre temuto che si ritornasse a prendere soluzioni molto più drastiche per affrontare la questione del randagismo il titolo Canile 3.0 dipende proprio dal fatto che siamo appunto in questa a mio avviso in questa terza fase o dovremmo essere in questa terza fase quindi Canile 1.0 la prima fase è quando nasce il Canile quindi negli anni 50 per un presidio medico sanitario per lo scopo l'obiettivo del Canile è tornato ci sono era quello di proteggere la comunità la cittadinanza gli italiani dal diffondersi di un virus molto letale che è la rabbia e che più che letale è un virus mortale negli anni 50 viene istituita questa struttura che però quali erano le caratteristiche allora dovete pensare che a livello strutturale non era pensata perché i cani ci rimanessero a lungo quindi non pensiamo al Canile come lo conosciamo un po' oggi quindi box comunque ampi con tutti i servizi e quant'altro erano più che altro alle volte degli stabulari proprio delle gabbie perché i cani venivano soppressi entro pochi giorni naturalmente se intorno agli anni 70-80 il virus dell'Arabia viene contenuto nel senso che l'Arabia esiste ancora non esiste più sul nostro territorio nazionale però questo significa che bisogna mantenere alta l'allerta perché ci sono specie animali anche sui nostri confini e come abbiamo ben visto in questo periodo i virus se ne fregano dei confini nazionali sta di fatto che scompare l'Arabia la sensibilità diciamo una maggior sensibilità sul mondo animalista comincia a arrivare dal nord Europa e dagli Stati Uniti verso la metà degli anni 70-80 quindi cominciano a nascere sull'onda di grandi associazioni come per esempio l'Empa cominciano a nascere piccoli assemblamenti di persone che si costituiscono come associazione naturalmente dovete pensare che per tutti gli anni 70-80 fino al 91 le associazioni non godevano né di benefici dallo Stato né di aiuti di alcun tipo erano persone che si autofinanziavano per magari avevano costruito un piccolo rifugio o cercavano di dare una mano ai cani per evitargli l'eutanasia e qui inizia la mia storia in realtà perché io sono nato nel 71 nell'84 quindi avevo 13 anni comincio a collaborare con un canile naturalmente la mia storia inizia perché fu un cane a portarmi a portarmi a conoscere questa realtà che per me non esisteva di un piccolissimo canile nella bassa Bergamasca dove vivo tuttora arriviamo a così a quello che ho definito canile 2.0 ovvero nel 91 1991 cosa succede? esce questa legge quadro nazionale la legge 28191 è una legge importante che un po' tutti quelli che si occupano di canile dovrebbero conoscere perché quantomeno è la prima volta che a livello statale si parla di benessere animale si parla di rispetto della vita eccetera eccetera e vengono stabilite delle norme e viene abolita l'eutanasia come strumento di contenimento del randagismo ecco l'obiettivo del canile 2.0 però attenzione era proprio la lotta al randagismo cioè cosa succede? negli anni 90 si percepisce questa problematica ci sono troppi cani in giro che danno partito adesso mettiamola lo metto semplicemente così e però abolendo l'eutanasia che cosa succede? il governo fondamentalmente demanda a dei privati cittadini perché poi in realtà le associazioni animaliste sono private cittadini la gestione di questo problema ovvero vengono stanziati dei fondi per il mantenimento dei cani e per la ristrutturazione delle strutture che prima come vi ho detto erano atti a ospitare cani per un periodo brevissimo adesso invece viene richiesta una certa metratura delle prassi operative eccetera e per mantenere tutti questi cani vengono stanziati dei fondi questo fa di noi già 30 anni fa uno forse forse 30 anni fa l'unico paese al mondo che non utilizzava l'eutanasia per per il contenimento del fenomeno randagismo in realtà quello che però in parallelo si doveva fare o comunque era previsto dalla legge era che il randagismo sarebbe stato diciamo combattuto questo fenomeno attraverso una maggiore formazione sensibilizzazione a livello culturale della cittadinanza con la microcipatura e con la sterilizzazione queste erano fondamentalmente delle cose quello che io ho cercato di fare in questo libro è di raccontare quello che dal mio punto di vista è la funzione oggi del canile quindi canile 3.0 che dovrebbe affrontare diversi diverse tematiche per perché ci sia un cambiamento cioè dal mio punto di vista è necessario che in qualche modo si inneschi un cambiamento i canili sono pieni e il numero di abbandoni non diminuisce o comunque è stabile quindi continuano ad essere pieni il numero delle adozioni in percentuale è ancora troppo basso rispetto per esempio al numero dell'acquisto di cani sul fatto che dal punto di vista della comunicazione il canile ha dei problemi che si sono generati anche dalla proprio rappresentazione che le persone hanno dei canili e dalla poca conoscenza che le persone hanno del canile cioè in realtà se voi pensate quando mai si parla di canili sui grossi media di comunicazione intendo giornali e televisione se ne parla generalmente in due casi uno quando è stato scovato un canile lager gestito dalla malavita quindi il canile come fucina dalla malavita due quando un cane ha commesso un atto tremendo non so un'aggressione grave ed è finito in quarantena in osservazione in un canile quindi nel canile ci sono i malavitosi e i cani pericolosi quindi questo è un po' chi non sa nulla di canili chi non c'è neanche mai stato è facile che si faccia anche questa idea in più c'è da dire che la rappresentazione mentale che si è consolidata con il canile 1.0 e un po' anche il 2.0 non sono certo favorevoli al canile avrete sentito adesso non so delle persone che sono collegate quanti frequentino il canile sia dal punto di vista come operatori o come educatori o come volontari insomma in quale figura però sicuramente sarà capitato ad alcuni di sentire frasi del tipo ah no guarda non vado in canile a vedere se c'è un cane perché quando ci vado io sto male mi sento male oppure addirittura ho sentito ah no non ci vado perché sennò li adotterei tutti spessissimo assolutamente perché non ce la faccio sopportare allora adesso torno a dire sollevo il giudizio il punto è proprio che non siamo attratti dalla sofferenza soprattutto dalla nostra e se una cosa mi genera sofferenza io non ci vado a meno che non sono un santo masochista o andato in più c'è un altro problema che si ingenera a livello psicologico l'idea che se tu cane sei in canile e stai soffrendo innegabilmente il canile è un luogo problematico per i cani senza dubbio però è un po' più complesso che semplicemente dire sta male però adesso io vengo in canile e l'idea che mi è stata data è che io sono venuto per salvarti quindi io vengo e ti salvo pericolosissimo questo genera questo genera nelle persone automaticamente un un sentimento di debito da parte del cane nel senso io ti ho salvato adesso non è che mi puoi rosichiare la sedia tirare il vintaglio abbaiare quando ti lascia solo cioè viene presa quasi come una non riconoscenza da parte del cane quando il cane fa il cane viene preso come una non riconoscenza del debito che invece lui dovrebbe avere nei tuoi confronti e questo non fa bene a nessuno perché ci allontana dalla conoscenza di cos'è un cane di cosa fa un cane e soprattutto dalla comprensione che il vissuto di quei cani può avere influenzato molto sul normale comportamento di un cane e che quantomeno ci sono delle condizioni che bisognerebbe apprendere cioè l'adozione del cane non può essere fatta in maniera superficiale se viene fatta in maniera superficiale quindi non si conosce il cane non si conosce la famiglia non si conosce l'ambito dove il cane andrà a vivere non si conosce come quel cane si adatterà se ha le capacità di adattarsi a un ambiente così diverso da quello del canile le adozioni possono andare a buon fine solo per una gran fortuna oppure solo perché di fatto abbiamo a che fare con un animale della mamma abbiamo a che fare con un animale che ha delle facoltà e io quantomeno vorrei che noi qualcosina si faccia anche per lui per dargli una mano a sopportare queste cose che per lui bisogna impararle bisogna conoscerle non sono noccioline quindi c'è tutto un lavoro per aiutare i cani ad adattarsi a un ambiente così profondamente diverso come può essere l'ambiente cittadino urbano rispetto a quello che il cane già conosce poi ci sono cani invece che arrivano da lì e quindi hanno una gran capacità di adattarsi ci possono essere cani che entrati in canile non avevano alcuna particolare problematica ma l'hanno sviluppata lì perché è lo stato di stress di ansia ma anche il sovraffollamento può generare stati alterati nei cani un cani che non aveva problemi con gli altri cani in uno stato equilibrato lì potrebbe svilupparli oppure il contrario quindi il punto è che è tutto molto complesso e secondo me ci vuole ci vuole diciamo della consapevolezza quando si lavora in canile ma bisogna fare anche un grosso lavoro proprio per cambiare questa rappresentazione negativa ed è il motivo per cui canile 3.0 non è solo un libro ma è anche un canale un canale youtube io cosa ho fatto ho scritto sulla mia pagina facebook aprendo dicendo alle persone se volete vengo a fare un documentario nel vostro nel vostro canile io non vengo con nessuna pretesa per raccontare io vengo a filmare una giornata e poi vi intervisto non mi preparo neanche le domande io voglio che voi avete la possibilità di dire quello che vi passa per la testa come se io fossi uno che è venuto in canile in quel momento lì e viene a chiedermi informazioni cosa fate come state che cosa sta succedendo allora io vendo questo messaggio ho dovuto chiudere le richieste a 100 qualcosa a canile me ne sono arrivate in avalanga fate conto che io ho iniziato nel 2016 a farle io sono da solo a fare le riprese a far tutto i viaggi dal 2016 a oggi io sono riuscito a fare 9 episodi quindi l'analisi del contesto mi sposta attualmente in questo momento il focus dell'attenzione su un aspetto che per me sta diventando centrale che è la prevenzione cosa vuol dire la prevenzione è spingere maggiormente l'educatore sinofilo a intervenire ancora prima del problema cioè a spingere su una divulgazione e una formazione o comunque informazione che sia preventiva e questo in moltissimi ambiti dalla scelta del cane alla scelta se prendere il cane perché non tutti i contesti possono garantire diciamo una base minima di benessere ora nel libro io ho cercato di affrontare un po' a ventaglio diverse questioni compreso anche delle idee che delle convinzioni errate magari che possono avere le persone le hanno non perché sono stupide le persone o perché sono manchevoli di qualcosa ma semplicemente perché si innestano delle idee e poi su quelle idee non sembra neanche necessario discuterne e quindi non saltano mai fuori si danno pervere e basta ho preso questo e questo è quindi non mi chiedo ho sbagliato c'è altro anche appunto quello che dicevo all'inizio diciamo soprattutto leggendo queste parti che ovviamente ho ritrovato spesso nelle persone e diciamo l'unico che sentimento che riuscivo a provare era proprio il nervosismo perché hai ragione nel senso quello appunto che hai descritto è la realtà è così e ci tengo scusami anche a precisare che nel libro non si sente ovviamente nessun tipo di giudizio c'è proprio una rappresentazione quindi non c'è appunto giudizio verso queste persone e visto il punto che l'hai precisato ci tenevo a precisare che anche nel libro non c'è nel senso non ti stai agendo a palazzo della verità insomma anche perché penso che a pochi interessi il mio giudizio a me interessava di più fotografare una situazione e capire anche perché certe cose avvengono senza colpevolizzare uno piuttosto che l'altro ma ci sono delle convinzioni io stesso nell'arco del tempo convinzioni che avevo e non sapevo neanche di avere perché fino che tu non ti poni delle domande tu non sai che quell'argomento potrebbe essere messo sotto critica non lo sai ma hai questa idea però quando ti trovi di fronte a realtà diverse se non sei abituato ad avere una prospettiva anche differente tu rifiuti e quindi nonostante uno ti possa dimostrare davanti ai tuoi occhi che la realtà è diversa da quella che tu pensi tu ti ostini a non vederla assolutamente e infatti una delle prime parti secondo me proprio l'ho voluta mettere all'inizio è l'importanza di sapersi fare delle domande e l'importanza di farsi domande quelle che sembrano banali perché sta lì il nocciolo del discorso io non mi chiedo come devo fare per salvare il mondo però per esempio mi posso chiedere perché io ho un cane e questa è una domanda che chi ha un cane fa fatica a rispondere perché sembra banalissimo perché chiedere a una persona che bello c'è un cane perché ce l'hai e qui è un problema perché diventa diciamo che in una componente molto zootecnica si va a trovare una funzione mi fa la guardia mi fa compagnia mi fa un servizio qualunque esso sia per giustificare all'altro anche se mentre tu lo dici non è solo quello tu dici sì mi fa la guardia ma non è solo quello però non sai identificare allora perché sei il cane perché è un discorso comunque una risposta che non benché la domanda sia banale la risposta non è affatto banale ed è abbastanza complessa però sta di fatto che io mi devo fare questa domanda perché è il motivo per cui ci sono i cani nei canigli saluto tutti i partecipanti grazie di essere stati con noi per tutto questo tempo e spero che vi sia molto utile utile sicuramente grazie a tutti e trovate ovviamente il link di qua sotto anche in descrizione perché arriva dopo o comunque tra qualche minuto anche sotto in descrizione ci vediamo domani ciao a domani ciao ciao ciao